Il terzo giorno per gli incontri del main draw della Val Gardena, reso conto delle partite del pomeriggio. Il primo singolare è un derby tedesco tra Langer e Pechner, finisce 6-4, 6-2 per Langer, un match molto equilibrato, soprattutto il primo set, poi nel secondo set Pechner cala. Ma sentiamo Langer. Questo è un super match, il primo set è stato più difficile che il secondo. Sì, sono davvero felice, ho giocato un buon match oggi, ho giocato anche una buona qualità e ora sono davvero felice che ho vinto qui. Il prossimo match contro Lopet Perez, lo conosci? Non lo conosci, ho visto il match prima. Sì, vedremo il prossimo giorno, spero di continuare così. Secondo singolare è quello fra Stakowski e Mektic. L'Ucraino Stakowski è la terza testa di serie numero due del torneo e non ci mette molto a eliminare Mektic con un 6-4, 7-5, anche se il risultato sembra che i due siano molto vicini. C'è un bel match combattuto nel primo set, il secondo set Stakowski ha una marcia in più, ma vediamolo. Stakowski, sei uno dei favori di questo torneo. Cosa significa questo? Oggi è stato il primo match, il primo match è sempre difficile. C'è nuove condizioni. C'è un po' 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 un po'. Siamo molto fortunato dalla base al solito della midda. È un po' 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 fuoco attraINA. Psychology ha un paese un po' staglio requires time. E' la prima volta, è un gioco molto bello, mi piacciono davvero molto bene. Nel prossimo gioco gioco contro Mirza Basi? Non so che gioco contro lui, ma credo che non abbiamo mai giocato. E' un gioco più semplice. Con pochi problemi per la coppia Krajček-Klaski. Mentre nel secondo set c'è un gioco abbastanza equilibrato fino al quattro pari. E in quel momento c'è un break dei vincitori che portano a casa il match. Sentiamo i vincitori. Ok, un bel gioco. Il primo gioco era senza problemi. Vuoi andare? Sì, è difficile. L'abbiamo giocato un po' buone gioco. E credo che è molto importante. E' un gioco più importante. E' difficile da essere. È difficile da venire. E' stata una buona giocata a mantenere la nostra gioco. E' stata una buona gioco per il gioco. Ma i raggiore sono giocati bene. E' stata una buona fortuna. E' stata una buona, è meglio. Con il gioco più importante. L'abbiamo in questo gioco. È difficile da essere per la buona gioco. Mi sento che quando avevamo molto alto. il momento nel gioco dei giocatori, stavamo guardando tranquillamente e siamo arrivati a loro un po' un po' di servizio e avevamo un po' di 40, in quel gioco che abbiamo fatto, hanno avuto 30-40, quindi abbiamo bisogno di prendere la possibilità e abbiamo fatto un buon lavoro di prendere la scuola. All'interno vediamo una macchina perfetta, abbono la scuola e la scuola la scuola. Sì, è quello che proviamo a fare. Ok, grazie. Grazie Amato più importante è quello fra Bolelli e Karhazef. Vince a sorpresa il russo per 6-4, 6-3, con un Baileli abbastanza sottotonulo ma sentiamo il vincitore e, in conclusione, anche Bolelli. Tutti la prima raterrazza, un super raterrazione contro Bolelli hai pensato che sia possibile, l'onessere sarà bello. Ho vinto qui è un gran torneo per me, ho giocato la prima rata per me è un buon raterrazione per me Il secondo gioco è il secondo gioco, quindi penso che è il migliore gioco per me e faccio tutto ciò che posso Mi serve molto bene nel gioco, la superficie è molto... Il migliore gioco? È il stesso gioco, è tutto Il migliore gioco con un servizio perfetto, perfetto gioco e molto buona gioco Ogni volta qui nel corno ha un problema di rinforzare oggi Come ho detto, è una buona giornata per me, perché non ogni giorno gioco come questo Ma io faccio il migliore, io combino ogni gioco, quindi questo è il risultato Ok, buona giornata Grazie Un grande peccato, è andata male È andata male, sì Oggi questo ho giocato molto bene, quel servizio faceva tantissimi punti Da dietro pure, ha sbagliato pochissimo Io un pochino più falloso del normale Primo set ho avuto qualche chance di andargli sopra le breakless di servizio Ma niente, poi sul 5-4 ho sbagliato io due palle e lì ho perso il 7 Ma qua sopra cambia la partita in due punti, quindi niente, ci sta, bravo lui Si, ha servito benissimo e poi ti ha martellato continuamente sul tuo angolo destro Si, di dritto ha giocato benissimo e anche di rovescio ha sbagliato veramente poco da fondo Il che non è facile qui perché la palla è molto veloce Io oggi non avevo una grandissima sensazione da dietro ma niente, va bene Ci sta E come finisci la stagione? Mi alleno un po' sulla terra per andare a San Paolo, l'ultimo appuntamento e basta In bocca al lupo Grazie Ciao